Con grande soddisfazione il sottopasso di Via Aquila ad Avezzano è stato riaperto al traffico veicolare con tre settimane di anticipo rispetto alla data prevista. Questo importante snodo stradale, cruciale per la viabilità urbana della città, è ora nuovamente operativo, promettendo di migliorare significativamente la fluidità del traffico cittadino. Alla riapertura ha partecipato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha sottolineato l'importanza di questo progetto per la comunità locale. L'avevamo promesso che avremmo riaperto prima dell'inizio dell'anno scolastico e l'abbiamo mantenuto alla promessa. È chiaro che fare queste opere con i soldi non dei cittadini di Avezzano, ma sono fondi che abbiamo acquisito attraverso il PNRR. Abbiamo lavorato per ottenere i fondi e per realizzare e per mettere in sicurezza. Questa è una zona sismica e quindi avevamo tutto l'interesse come amministrazione di mettere in sicurezza la città. Il progetto di ristrutturazione del sottopasso ha incluso non solo la messa in sicurezza della struttura, ma anche l'implementazione di nuove tecnologie. In particolare abbiamo adeguato sismicamente i due ponti stradali via Collelongo e via dei Ferroieri. Con l'occasione però abbiamo realizzato anche altri lavori, quali il marciapiede sopraelevato, un impianto di antiallagamento, diciamo, costituito da due pompe e due tubi di rilancio e ovviamente abbiamo risanato tutte le superfici consolidate, le superfici dei muri di sostegno e dei muri andatori. La temporanea chiusura del sottopasso aveva creato non poche difficoltà per i residenti e i pendolari, causando congestioni e ritardi. Noi quest'anno non siamo andati in ferie per niente, abbiamo lavorato anche il 14 d'agosto, in quanto addirittura il 14 d'agosto abbiamo fatto un getto di cemento di circa 38 metri cubi per realizzare la passarella rialzata. Ora, con il completamento dei lavori, si prevede una significativa riduzione dei tempi di percorrenza e un miglioramento complessivo della fluidità del traffico. La riapertura del sottopasso di via Aquila d'Avezzano segna un importante passo avanti per la città, che continua il suo percorso di modernizzazione e miglioramento delle infrastrutture urbane.